Ai microfoni di tuttoprovercelli.com, Francesco Gazzo, giovane proveniente dall'Albino Leffe, come mai sei improntato con questa scelta della Provercelli? Perché come ho già ripetuto in inizio anno, me ne hanno parlato tutti bene, anche il mio compagno di squadra, Donato Di Sabato, con cui avevo già giocato all'Albino Leffe, mi ho detto che era una grande piazza e che qua comunque si può far bene. Noi non ti abbiamo visto ancora in campo perché tu sei in una fase di recupero dopo un'operazione al Benisco, a che punto sei? Braghina ha una sete tremenda di uomini giovani come te. Lo so, il recupero sta andando decisamente bene, adesso già oggi dovrei fare qualche minuto contro la Beretti e ormai siamo arrivati. Benissimo, allora buona fortuna e grazie a Francesco Gazzo. Grazie a voi.